Siamo prigionieri nelle nostre case, siamo invasi dagli insetti e con l'arrivo dell'estate costretti a fare i conti con il cattivo odore delle sterpaie bruciate e il grido d'allarme dei residenti di Via Cupa Ospedale e Via Cupa San Pietro a Torre del Greco. Tutto a causa dei terreni abbandonati alle spalle di Viale del Commercio. Una situazione che diventa ancora più critica durante la stagione estiva per il rischio degli incendi. L'ultimo episodio nel tardo pomeriggio di ieri, quando sono andate a fuoco alcune sterpaie. Il fumo si è propagato a causa del vento, creando disagi anche all'oratorio della Chiesa di Santa Maria del Popolo, che ha dovuto sospendere temporaneamente le attività. Abbiamo inviato numerosi esposti all'Asle e al Comune, denunciano i residenti. Ma nessuno prende provvedimenti, a cominciare dai proprietari dei terreni che non provvedono alla pulizia. Disaggia Via Cupa Ospedale anche per il passaggio dei mezzi di soccorso, che non riescono a transitare per via delle auto parcheggiate su entrambi i lati della strada.